musica video e soprattutto telefonate gli auricolari moderni devono ormai essere in grado di offrire un'esperienza acustica a 360 gradi ma quali scegliere tranquilli conosco un prodotto che fa al caso vostro e ve ne parlo tra poco qui su tech princess vent'anni fa avevamo tutti gli stessi auricolari quelli che venivano venduti insieme all'indimenticato walkman o alla famosa radiolina con cui era possibile ascoltare le partite anche durante i weekend fuori porta con la famiglia ora però al mercato si è evoluto ci sono colori diversi prezzi differenti e nuove tecnologie persino l'utilizzo che ne facciamo è cambiato prima gli auricolari erano qualcosa da usare occasionalmente per ascoltare la musica ora sono diventati indispensabili per tutti coloro che possiedono uno smartphone questo perché le cuffie contemporanee devono permetterci di chiamare senza l'onere di tenere in mano il telefono ma anche di sentire i nostri brani preferiti di guardare video su youtube oppure di goderci film e serie tv in streaming ovunque e in qualsiasi momento è proprio considerando tutti questi scenari che sono stati creati gli auricolari lg tone ultra progettati per essere comodi e versatili a caratterizzare queste cuffie ci pensa prima di tutto il design niente cavi fastidiosi che rischiano di staccarsi o di darvi noia mentre vi muovete lg tone ultra sfruttano infatti la tecnologia bluetooth contenuta all'interno di un collarino rigido che permette loro di rimanere saldamente ancorata al collo in qualsiasi situazione preoccupati per il peso tranquilli queste cuffie pesano meno di 50 grammi praticamente non vi accorgerete di indossarle gli auricolari poi sono retrattili ciò significa che potete estrarre le due capsule quando vi servono per poi riagganciarle magneticamente al resto della struttura quando invece non avete bisogno naturalmente per rispondere al telefono non dovrete estrarre lo smartphone sul collarino trovate infatti il pulsante per accettare o chiudere le chiamate quello per alzare e abbassare il volume il tasto per avviare la riproduzione musicale e lo slider per cambiare traccia esiste poi un altro piccolo pulsante che serve ad attivare lo speaker esterno sì avete capito bene le cuffie lg tone ultra integrano anche un altoparlante che vi permette di conversare in viva voce così non dovrete necessariamente utilizzare gli auricolari a distinguere queste cuffie dagli altri prodotti presenti sul mercato ci pensa anche un'esperienza acustica di alta qualità lg tone ultra infatti sfruttano il jbl signature sound per riprodurre bassi più puri e precisi mentre la tecnologia quad layer speaker permette di avere alti ben definiti e voci cristalline infine vi segnalo che a bordo di queste cuffie troviamo un doppio microfono così i vostri interlocutori non perderanno neanche una parola di quello che state dicendo direi che anche per oggi è tutto io vado ad ascoltare un po di musica con le mie lg tone ultra voi invece ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche se invece avete dubbi oppure volete qualche consiglio tech non esitate a contattarmi sulla mia pagina facebook ciao ciao